Un colpo di scena sconvolgente sconvolge la famiglia Soydere. Merkan è pronta a smascherare Tariq e arriva proprio nel momento più inaspettato, durante la cena di famiglia. Ma il vero shock arriva il giorno dopo, quando Tariq, ormai sopraffatto dalla tensione, decide di fare una confessione che cambierà per sempre il destino di Kemal. Cosa sta per rivelare? Kemal informa a Zeynep che non è stata lei a uccidere Ozan, poiché aveva già il veleno in circolazione quando lei lo ha soffocato con il cuscino. Le chiede dove sia Tariq e Zeynep, gli risponde che non lo sa, e gli assicura che qualsiasi azione del fratello è stata commessa esclusivamente per coprire la sua, presunta, colpevolezza. Kemal promette a sua sorella che non denuncerà Tariq. Nihana ha costretto Asu a dirle che l'assassino di Ozan è Tariq, ma non lo rivela a Kemal. Zehir, Ayhan e Kemal incontrano Anil. La donna li informa, previo ordine di Emir, di essersi scambiata le e-mail con Tufan e non con Emir e di avergli consegnato la telecamera presente nella stanza di Ozan. Prima di continuare, se vorresti ricevere in anteprima le nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi sì nei commenti. Whispery. Vildan è in trepida attesa dei risultati dell'autopsia di Ozan che finalmente arrivano. Merkan riferisce a Kemal e Nihan che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, ma per impiccagione per mano di chi voleva far passare il presunto omicidio di Zeynep per suicidio. Leila scopre che dietro i recenti profitti dell'azienda c'è una frode. Viene comprato carbone a un prezzo inferiore a quello di mercato, ma la società da cui acquistano in realtà non sarebbe in grado di fornire una quantità così elevata. Tariq confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo. Kemal non ha il coraggio di affrontare Nihan per dirle tutta la verità sul colpevole dell'omicidio di suo fratello. Emir accompagna Zeynep in ospedale e assiste all'ecografia di suo figlio. Zeynep dice alla madre che non si sposerà con Hakan e che Emir riconoscerà il bambino. Merkan indaga su Tariq e chiede ad Asu i video dell'omicidio di Ozan. Lei dice di non averli più. Così Merkan richiede un mandato di perquisizione per l'appartamento di Tufan e Gurkan e per eventuali cassette di sicurezza in loro possesso. L'indagine di Kemal e Nihan si è conclusa. La scoperta dell'identità dell'assassino di Ozan travolge tutti come una valanga, seminando dolore e sgomento. Kemal è ben consapevole delle ripercussioni di questa verità, mentre Nihan vuole ancora aggrapparsi alla speranza e all'amore. Tariq, in un toccante colloquio, chiede a suo fratello di accompagnarlo alla polizia, dove la macchina della giustizia si mette in moto. Hakan si presenta a casa Soidere senza preavviso, ricevendo un'accoglienza calorosa da Fehime e Husein. Zeynep, invece, è piuttosto fredda con lui e gli spiega di non volerlo ingannare. La verità è che la ragazza non riesce a dimenticare Emir, che poco dopo la convoca per annunciarle una clamorosa decisione. Tariq si sente profondamente in colpa per come sono andate le cose e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi. Ma Kemal non intende in alcun modo abbandonare suo fratello. Nihan vorrebbe recuperare il rapporto con Kemal, ma lui ha bisogno di tempo. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti. Grazie.